Alexa, ordina un pisellone Stai cercando di comprare pisellone? Sì Sembra che diegisca il bello sexy in scatolina A voi pisellone sia già nel tuo carrello Amazon Il prezzo è 5 euro e 3 centesimi Iva inclusa Con consegna prevista entro 8 febbraio No, no, no Acquista, acquista No, no Zitta, tatta zitta, parco Dio, no Alexa, cancella l'ordine No Porca madonna Ma non è che mi ha comprato un pisellone Non è che mi arriva un cazzo a casa, no Porca madonna